Foggia TV Grazie, ben trovati a voi tutti all'ascolto e alla visione del nostro telegiornale sul 99 del digitale terrestre. Mercoledì 23 febbraio 2022, prepariamoci al peggio perché la protesta dei camionisti non si ferma. Apertura. Manca anche il grano importato per eventi di guerra in Russia. Pronto soccorso e cardiochirurgia, priorità del Riuniti. L'apertura dei nuovi reparti nel corso del mandato del commissario. Massimo entro sei mesi. Contro piede fatale della Turris. Foggia infilzato tre volte. Sconfitta già archiviata. Sabato c'è il derby con il Bari. Si allarga la protesta dei camionisti per il caro carburante nelle principali arterie della provincia di Foggia già da tre giorni. Presidi notte e giorno. Da Cerignola a San Severo sulla strada statale 16. Adesso ci sono presidi anche sulla strada statale 17 che da Foggia porta a Campobasso. E sul tratto nei pressi di Lucera stamattina c'erano anche i trattori degli agricoltori che sono scesi sul fronte per amplificare la protesta e dare manforte ai camionisti. Anche il prezzo del gasolio agricolo è in sensibile aumento. I camionisti non hanno intenzione di fermarsi. Facciamo il punto della situazione. Continua la protesta degli autotrasportatori per il caro benzina. Altra notte al freddo per imprenditori e dipendenti dei trasporti nei presidi attivi nel Foggiano. Sono sempre più numerosi mezzi pesanti presenti nei parcheggi delle aree di servizio o sul ciglio delle strade. Alle porte di Foggia, tra il capologo e San Severo, sempre sulla statale 16, altro presidio presente sulla statale 17 che porta a Lucera. Non potevano mancare gli imbocchi autostradali con quello di Foggia nella zona industriale ma soprattutto quelli di Candela e Cerignola dove sono tantissimi mezzi costretti al parcheggio e altri per scelta. Si punta a creare un disagio generale e mentre nelle prime ore di protesta qualche mezzo con beni di prima necessità o farmaci è passato quasi inosservato portandosi a destinazione, l'imperativo delle ultime ore è quello di fermare tutti, non passa più nessuno. Cominciano le prime crisi di approvvigionamento nel comparto agroalimentare con la protesta che, telefonini alla mano, abbraccia le zone cruciali dello smistamento dei beni alimentari. Dal Foggiano infatti ci sono perenni collegamenti e aggiornamenti con la Campania, la Sicilia, il Tarantino e l'agropontino. Mettendo in ginocchio questo settore, gli autotrasportatori puntano ad ottenere qualche beneficio nella contesa con le istituzioni. Al centro le accise che innalzano i prezzi dei carburanti e delle tasse sugli stessi, ma anche i contributi sui dipendenti. I costi sono diventati insostenibili e le grandi committenti di contro hanno creato un sistema di concorrenza spietata tra gli autotrasportatori che impedisce loro di alzare i prezzi dei trasporti. Del caro bollette, del caro carburante e della protesta dei camionisti ne parleremo dettagliatamente con ospiti in studio del settore domani sera nel corso di una puntata dedicata al difficile momento di Senza Maschera. È previsto un collegamento anche con l'assessore regionale Pentasuglia e ci sarà la presenza del direttore della Cordiretti di Foggia qui nei nostri studi. Domani sera appuntamento con Senza Maschera. Intanto c'è l'effetto valanga sul settore agroalimentare in tutta la Puglia che mette a rischio la spesa con i prodotti deperibili, ortofrutta, funghi, fiori a terra perché le consegne si sono ridotte già del 70%. L'indagine, questa prima indagine l'ha fatta la Cordiretti Puglia sottolineando che non mancano i problemi anche per lo scarico di una nave attraccata al porto di Bari, carica di mais utile per l'alimentazione degli animali nelle stalle mentre le quotazioni dei principali elementi della dieta degli animali. In più potrebbe esserci anche il problema del pane tra pochi giorni. Da Monte Sant'Angelo dicono che c'è autonomia per la produzione per ancora 72 ore. Poi i panificatori non potranno produrre pane e altri generi di prima necessità. I pianificatori hanno comunicato tutto al prefetto di Foggia, Carmine Esposito. Manca anche il grano importato perché ci sono problemi per l'approvagginamento dalla Russia per i venti di guerra con l'Ucraina. E dunque è un problema davvero importante con ripercursioni immediate, ci dicono quelli della Cordiretti. Per quanto riguarda il settore degli autotrasportatori ricordiamo che l'85% delle merci del settore agroalimentare viaggia su strada. E poi c'è il caro Energia che sta svuotando anche i banchi di vendita nei supermercati. Adesso la cronaca è stata una fuga di gas a causare la morte di due coniugi a Stornare. Il paese è sconvolto. Indagini in corso per definire la dinamica dell'incidente avvenuto nell'abitazione della coppia di anziani coniugi morti, secondo le prime informazioni, per esalazione da monossido di carbonio. I corpi di Salvatore e Mattia sono stati trovati riversi sul pavimento nella loro abitazione distornare da alcuni familiari che hanno poi dato l'allarme. In quella stanza non ci sarebbe stato ricambio d'aria e forse una perdita di gas potrebbe aver prima fatto perdere i sensi e poi uccisi due settantenni al momento. Quindi vengono accantonate altre ipotesi investigative, comprese quella di un possibile suicidio. Quindi si sarebbe trattato di un incidente, l'ennesimo registrato nella zona. Infatti a pochi chilometri dall'abitazione dei due anziani coniugi altre vite umane sono state spezzate a causa di un incendio provocato da stufe realizzate artigianalmente. Il 17 dicembre scorso morirono i due fratellini di due e quattro anni avvolti dalle fiamme nella loro baracca del Campo Rom che fu teatro di un nuovo incendio meno di due settimane fa dove fortunatamente non si registrarono vittime. Stiamo parlando di contesti diversi ma che comunque alimentano uno stato di sgomento e dolore per la piccola comunità di Stornara. Scontro frontale l'altra sera sulla circonvallazione di Foggia. Nell'impatto tra una Ford e una Jeep ha perso la vita purtroppo un uomo di 31 anni, autista soccorritore del 118 di Cerignola. La vittima era la guida della Ford, ferito in maniera non grave il conducente dell'altro mezzo. Dalla coronaca alla sanità saprete che da qualche giorno al vertice del Policlinico Riuniti di Foggia c'è il commissario Giuseppe Pasqualone, ci ha già comunicato quali sono le priorità e tra le priorità del Riuniti e nel corso del suo mandato c'è l'apertura del pronto soccorso, ma c'è una vecchia priorità del Policlinico Riuniti, l'apertura del reparto di cardiochirurgia che manca nella grande struttura di Viale Pinto o Via Napoli e dunque questa mattina abbiamo chiesto al commissario i tempi per l'apertura del reparto di cardiochirurgia. ci dice che prima della scadenza del suo mandato il reparto sarà aperto. Sentiamolo. Ieri ho incontrato il cardiochirurgo, il professore da Paparella che da un po' che non vede l'ora di venire a svolgere la sua attività clinica nell'azienda Ospedale Riuniti di Foggia. Allora c'è un problema legato alle sale operatorie, questo è il problema tecnico che dobbiamo risolvere, però col professore ho concordato che intanto andiamo avanti sul programma che lui aveva fatto con il precedente direttore generale, nel senso di reclutare il personale e iniziare a farlo lavorare dove sta lavorando lui. Io ho preso impegno, questo è il primo passaggio che dobbiamo fare subito. Quindi confermando l'interesse ovviamente anche mio di far partire la cardiochirurgia in questa azienda. Dopodiché ci metteremo, sono già al lavoro sulla risoluzione di questo aspetto tecnico perché vogliamo garantire ovviamente delle strutture adeguate ma anche eccellenti per svolgere questa attività che è fondamentale per il territorio e che può dare anche un impulso forte al nostro, diciamo così. Il problema è che ci sono le macchine, cioè le sale operatorie non sono pronte? No, le sale operatorie sono quelle del DEU che non esistono ancora, c'è una procedura in corso che sto verificando, sto valutando per fare la scelta migliore per l'azienda, se è stata effettivamente la scelta migliore per l'azienda perché poi dobbiamo quadrare i conti, questo è importante, non ci possiamo permettere in un'azienda. Cardiochirurgia è un vuoto in questa grande struttura, ci avevano detto ad ottobre l'apertura, poi a marzo, adesso possiamo ipotizzare un mese, non un giorno. Io date non ne posso dare in questo momento, da quattro giorni qui è una priorità insieme a quella del pronto soccorso, quindi queste due priorità diciamo che si faranno a gara a chi prima arriva, questo lo posso certificare. Non voglio dare date, non voglio prendere in giro nessuno, c'è un lavoro da fare. Entro l'anno ce la facciamo? Ce la dobbiamo fare assolutamente sì, io vorrei farlo prima della scadenza del mandato al commissario sinceramente, quindi questo è il mio obiettivo prioritario, quindi pronto soccorso, cardiochirurgia, non c'è dubbio. Poi porteremo avanti anche le altre attività. Ricordiamo che il mandato, tra l'altro avete sentito, del commissario Pasqualone è per sei mesi e dunque entro sei mesi l'apertura del reparto di cardiochirurgia. Restiamo al Policlinico riuniti perché è uno dei tre centri europei coinvolti dalla Università di New York per la sperimentazione di un nuovo modello anatomico in 3D. Alla sperimentazione di un nuovo e rivoluzionario modello anatomico in materiale idrogel 3D parteciperà anche il Policlinico riuniti di Foggia con il direttore di andrologia e chirurgia Carlo Bettochi. La sperimentazione è in corso all'Università di New York e il riuniti è uno dei tre centri europei coinvolto e l'unico centro italiano. L'attenzione della scienza mondiale è un distintivo di prestigio per il Policlinico Foggiano. La possibilità di adoperare un modello anatomico tridimensionale apre nuovi scenari, già prefigurati dal reparto di urologia diretto dal professor Giuseppe Cardieri, segretario della Società Italiana di Urologia, struttura da anni all'avanguardia per la formazione di giovani chirurghi con importanti rapporti di collaborazione scientifica internazionale. I modelli anatomici tridimensionali, che oggi sono in via di commercializzazione, rappresentano una vera e propria innovazione. Sono costituiti di polvere di alcol polibilinico che creano un gel di consistenza vischiosa, poi modellato per ricreare diverse strutture anatomiche in calchi di plastica realizzati con stampanti 3D. Il modello a disposizione al Policlinico Reuniti di Foggia è privo di rischio di decomposizione, realizzabile in tempi brevi e in grado di riprodurre le diverse componenti anatomiche. E il giorno dopo il recupero della giornata del campionato di serie C, girone C, e dunque abbiamo un'ampia pagina sportiva. Sconfitto il Foggia ieri sera a Torre del Greco, 3-1 il risultato finale. Vediamo prima la cronaca, la sintesi della sconfitta del Foggia, poi sentiremo il tecnico e ci proietteremo verso il derby con il Bari. Cominciamo con Tiziano Enrichiello. Tutto da rifare in casa Foggia alla luce della sconfitta maturata ieri sera a Liguori di Torre del Greco. I rossoneri incappano in una serata in fausta in terra campana dove sono riemersi vecchi errori e amnesie difensive preoccupanti che hanno determinato il risultato negativo contro una Turris, diciamolo subito, che non ha rubato nulla e che ha disputato una signora partita. Zeman presenta in linea di massima la stessa formazione uscita vittoriosa da Monopoli con l'unica variante di Gallo al posto di Di Paolo Antonio con il risultato di dare più quantità al centrocampo a discapito della qualità che durante il match è sicuramente venuta meno. Al punto che nella ripresa il Boemo è corso ai ripari riportando l'ex centrocampista del Monterosi nell'undici in campo. Enormi sbavature difensive, errori in appoggio, reparti slegati con il tridente di attacco poco incisivo e un undici che ha retto bene il confronto solo nella prima frazione di gioco dove ha pure segnato il gol del momentaneo pareggio dando a tratti la dimostrazione di poter addirittura ribaltare il risultato. La Turris parte forte e dopo appena dieci minuti si porta in vantaggio. Verticalizzazione per Santaniello che supera Di Pasquale solo davanti a Dalmasso lo batte con un tocco di destro. Dopo soli sei minuti è Merola a sfiorare il pareggio con un rasoterra su imbeccata di Ferrante ma è bravo Perina a neutralizzare la conclusione. Poco prima della mezz'ora i rossoneri pareggiano. Ancora Merola ha la conclusione, Perina respinge nuovamente ma nulla può sul piattone di Garofalo che infila l'angolo alla sua sinistra. Il Foggia prende coraggio e sembra poter imporre il proprio gioco ma a due minuti dal riposo si fa infilare ancora centralmente da Santaniello che infila Dalmasso al termine di una ripartenza nata probabilmente da un fallo su un calciatore rossonero. Nella ripresa ci si attende la reazione del Foggia che non ci sarà e a nulla serviranno anche gli ingressi dei nuovi girasole Rizzopinna, Maselli di Paolo Antonio e Vitali che non cambieranno il volto del match. Sarà ancora la Turris a 12 minuti dalla fine a chiudere la contesa con un gol di Leonetti che approfitta di un'errata posizione di Dalmasso e da 30 metri lo infila nell'angolo alla sua destra. Risorge la Turris, esce sconfitto il Foggia, atteso tra tre giorni dal derby dello Zaccheria con il Bari. Perdono i rossoneri tre partite di fila e sono brocchi, poi ne vincono due di fila e diventano bravi calciatori, poi ne perdono una come ieri sera e diventano di nuovo brocchi, forse bisognerebbe correggere la misura in questo momento rossonero. Poi c'è da valutare nei dettagli la partita e dunque gli episodi, anche le decisioni arbitrali. Così come ha fatto Zeman ieri sera, subito dopo la gara. Sentiamo. Che cosa non è andato bene quest'oggi? Io direi risultato sicuro. Abbiamo cercato di giocare per vincere una partita. Purtroppo secondo me i primi due gol loro sono viziati da falli e poi abbiamo cercato di recuperare, penso anche il nostro gol era buono, non era fuori gioco e abbiamo sbagliato poi troppo nel senso che abbiamo attaccato troppo piatti, abbiamo perso palla per mettere loro terzo gol. Ma si sapeva che tu rigiocava un buon calcio e con contropiede ci mettevano in difficoltà. E con il primo tempo è stata anche una partita piacevole. Il Foggia aveva anche giocato bene e poi è arrivato quel gol. Può essere quella la chiave della sconfitta, il gol del 2-1 così a freddo nel finale? Le chiave sono due gol. Io ripeto, sul secondo gol ci è saltato addosso all'avversario e se uno è caduto poi era difficile. Ci siamo comportati dall'inizio bene, poi nel secondo tempo un po' troppo confusione, però voglia di fare il risultato. Ripeto, eravamo troppo piatti perdendo palla con cinque giocatori in linea piatta e poi è normale che l'avversario ci abbia spazio a ripartire. La linea della difesa così alta è stata una cosa ricercata da voi sin dall'inizio della partita? Sì, il primo tempo ci è andato abbastanza bene, anche se ancora i tempi possono migliorare nel senso che ogni tanto ci abbiamo corso dietro invece di lasciarlo e fare un passo avanti. E' una sconfitta questa da cui si può imparare qualcosa? Io spero che la squadra si renda conto dove ha sbagliato. Io ripeto, noi dobbiamo cercare di fare triangoli sul campo, invece se siamo piatti siamo in tutti e tre in linea e non si può giocare. Allora, entriamo nei dettagli e andiamo a vedere naturalmente con l'aiuto delle immagini le decisioni arbitrali contestate a cominciare dal gol del 2-1 della Torres e qui c'è un evidente fallo commesso ai danni di un calciatore del Foggia e poi vedete ancora l'azione fino al gol di Sant'Agnello. Il fallo è evidente ed è sfuggito agli occhi del direttore di gara. Sono gli episodi che poi decidono nel corso della partita il risultato della contesa. E poi andiamo a vedere anche il gol annullato al Foggia per una presunta posizione di fuorigioco. Allora, rivediamo al rallenti. Ecco, c'è un calciatore della Turris che mantiene in gioco il calciatore del Foggia e anche qui si tratta di una svista arbitrale e questi sono episodi che hanno determinato il risultato. Il riscatto sabato prossimo perché il Foggia tornerà in campo per affrontare il Bari. Prima del prossimo turno vediamo i risultati di ieri. Eccoli, il Messina ha battuto il Monopoli ancora sconfitto 2 a 1. Il Campobasso va a vincere a Bari e poi cosa fa? Perde in casa per 2 a 1 per mano del Monterosi. Latina Avellino 0 a 0. Torna la vittoria il Bari allunga sul Catanzaro e sul Picerno 1 a 0 il risultato. perde in casa il Catania, vince la Paganese 1 a 0. La Juve Stabia torna alla vittoria 3 a 1 sulla Vibonese, 0 a 0 tra Potenza e Catanzaro, poi il 3 a 1 del Foggia a Torre del Greco, vince Francavilla 1 a 0 sulla Fidelis e poi c'è la partita del Palermo con il Taranto ancora da giocare e vedete la classifica e Foggia è sempre in zona playoff con 39 punti insieme al Picerno. Bene, adesso andiamo a vedere il prossimo turno perché Foggia, ripeto, tornerà in campo sabato e c'è il derby. Juve Stabia Monopoli, Avellino Catania, Monterosi Picerno, Campobasso Turris, Catanzaro Latina, Fidelisandria Taranto, Potenza Paganese, Vibonese Messina, Francavilla Palermo e poi Foggia Bari allo stadio Zaccheria alle ore 18.30, una gara come saprete particolarmente attesa. Rivediamo i titoli delle principali notizie che abbiamo trattato oggi. S'allarga la protesta dei camionisti contro il caro carburante, presidi sulle principali arterie, scendono sul fronte anche gli agricoltori, tir e trattori sulla Statale 17. Effetto della protesta valanga, consegne ridotte, a rischio la spesa alimentare, manca anche il grano importato per eventi di guerra in Russia. Pronto soccorso e cardiochirurgia, priorità del Riuniti, l'apertura dei nuovi reparti nel corso del mandato del commissario, massimo entro sei mesi. Contro piede fatale della Turris, Foggia infilzato tre volte, sconfitta già archiviata, sabato c'è il derby con il Bari. Cosa c'è da seguire stasera su Foggia TV, canale 99? Abbiamo prima Spazio Dilettanti con Antonio Villani e a seguire Tutto Basket con Pino Pistillo. Io mi fermo qui, vi ringrazio per averci ascoltato. Per noi di Di Vella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Gate & Gusto, la fiera specializzata per il mondo del turismo e della ristorazione, uno spazio di condivisione e interconnessione tra espositori e visitatori, italiani ed esteri. Attrezzature, innovazioni, tecnologie, contract, alta formazione, B2B, show cooking e molto altro. Grazie a tutti. Da Euronics, più prendi, meno spendi. Il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati. Vieni a scoprirli nel tuo negozio Euronics. Euronics, un mondo più avanti.